Ciao! Un video sui bocciati del periodo, non ho tantissime cose ma quelle che ho diciamo sono veramente bocciatissime una è la Cici Cream Cushion System, la colorazione che ho io è la Warm Rose, questa qui di Kiko si presenta così, ma l'avrete vista in tutte le salse, ha la chiusura per proteggere la Cici Cream che è questa qui, ha una coprenza bassa ma non è quello che mi dispiace perché la coprenza bassa io sono abituata ad utilizzare comunque sempre BB Cream, quindi prodotti abbastanza leggeri non mi interessa una coprenza chissà quanto alta, però devo dire che con questa mi lucido dopo un minuto un minuto e mezzo dopo averla messa, ha la spugnetta all'interno che io ho tolto perché non riesco ad applicarlo con la sua spugnetta, quella proprio in dotazione, ma vado a inserire all'interno direttamente un pennello fitto e la stendo con il pennello però con la spugnetta mi lascia delle striature, quindi uso il pennello per quel motivo non uniforma nemmeno chissà quanto bene perché comunque una coprenza leggera sì, bassa sì, però così è veramente troppo nel senso che sul mio viso la colorazione è perfetta però non uniforma nemmeno chissà quanto e qualsiasi cipria io vado a mettere lì sopra qualsiasi cosa io vado a mettere lì sopra dopo due minuti sono completamente lucida sicuramente non è un prodotto che va bene per il mio viso ora non so, se l'avete provata voi fatemi sapere ma sul mio viso assolutamente non va bene mi fa lucidare subito non ci vorrà molto a finirla perché comunque sono 10 ml quindi è veramente poca io la volevo prendere ai saldi ma qui da me non è arrivata quindi me l'ha presa Cristel con i saldi perché da me non era arrivata ma non è un prodotto che proprio mi ha fatto impazzire insomma poi sempre per quanto riguarda il make up ho questo primer di Make Up Revolution nel Focus & Fix Eye Primer questo qui ha l'applicatore a spugnetta fatto tipo a gloss così e la colorazione è beige diciamo chiara e una volta steso dovrebbe uniformarsi con la palpebra ecco il problema è che questo non si asciuga mai ancora qui la zona è umida e voi potete anche aspettare ma non cambia la situazione cioè io ogni volta che vado a mettere poi un ombretto al di sopra quando stendo l'ombretto con il pennello mi porto via anche il primer perché si vede che viene via subito ho provato ad aspettare magari qualche minuto in più ma il risultato è lo stesso io ho provato altri primer e comunque la consistenza è tutta abbastanza appiccicosa perché penso che sia quel tipo di consistenza che fa sì che gli ombretti si aggrappino comunque meglio alla palpebra i resti non lì belli senza andare nelle pieghette però questo non si asciuga veramente mai e non resta nemmeno lì infatti tutte le volte che l'ho utilizzato poi qualsiasi prodotto io andassi a mettere al di sopra mi andava nelle pieghette perché non restava comunque lui lì fermo e di conseguenza quando si spostava poi portava con sé anche il prodotto al di sopra io l'avevo preso quest'estate su Makillalia con il 3x2 e è il prodotto che mi è venuto gratis però mi sembra costa sui 2 euro, 2,50 euro ma secondo me non vale la pena nemmeno di spenderci 2 euro ma assolutamente no ora non so nemmeno come terminarlo perché non so proprio come utilizzarlo allora vedremo se riesco a trovare un utilizzo alternativo altrimenti va nel secchio assolutamente un altro prodotto che non mi piace per niente questo l'ho comprato prima di andare in vacanza è lo stick labbra al karité dell'equilibrio nutriente e protettivo questo qui io ho letto karité, burro di karité quindi ho pensato che fosse un burro cacao idratante per quanto riguarda l'idratazione non si può dire niente idrata però il problema è che lascia questa patina bianchiccia che si vede anche da qui e come vedete non so se si nota da qui cioè questo viene via a pezzetti ha una consistenza veramente dura che ogni volta che lo vado a stendere ecco ne porta via un pezzo quindi voi non riuscite mai a stenderlo sulle labbra senza dover per forza ricorrere al dito per togliere i pezzettini in eccesso perché altrimenti è veramente brutto da vedere questo burro cacao che avete a pezzi sulle labbra l'avevo portato in vacanza ma lo utilizzavo diciamo solo la sera in camera prima di andare a dormire non l'ho mai applicato quando ero in giro perché questa cosa di vedere comunque tutti questi pezzettini sulle labbra non mi faceva impazzire è idratante ma nemmeno così non dà nemmeno un'idratazione così grande perché io la utilizzavo la sera e la mattina non è che mi svegliassi con queste labbra chissà quanto morbide è l'unico burro cacao di equilibra che ho provato quindi fatemi sapere se voi ne avete provati altri ma io ho provato questo penso di abbandonare il burro cacao di equilibra insomma l'ultimo prodotto è uno struccante questo è il terzo struccante di Garnier nel giro di due mesi e mezzo che provo è lo struccante sensitive essential struccante bifase 2 in 1 strucca senza sfregare speciale waterproof questo qui qui dice senza profumo alcol colorante adatto anche alle pelli sensibili viso e occhi io sul viso non l'ho mai utilizzato perché è un bifasico e ho paura che magari l'olio mi vada a dare comunque fastidio a creare qualche imperfezione sul viso quindi non l'ho mai utilizzato sul viso l'ho utilizzato sempre per gli occhi mi brucia da morire sugli occhi e speciale waterproof sinceramente non credo perché non utilizzo prodotti waterproof però questo non riesce a rimuovermi nemmeno il mascara quindi non oso immaginare con un prodotto waterproof cosa possa fare se ne metto una quantità maggiore rispetto magari a quella che solitamente vado a mettere sul dischetto mi ritrovo l'occhio rosso e gonfio se ne metto una minima quantità mi brucia solo però non riesce a rimuovere comunque tutto il trucco devo dire che dei tre che ho provato di Garnier quello viola sempre bifasico e quello verde quello viola è stato l'unico che mi è piaciuto perché quello verde fresh non mi ha struccato praticamente niente quello viola era perfetto perché mi portava via tutto e non mi ha mai dato problemi non mi ha mai bruciato mi struccava anche il mascara questo assolutamente no penso che dopo questo ritornerò all'altro viola perché niente ora vabbè lo porto avanti sicuramente ma non mi piace proprio per niente l'avevo preso in offerta mi sembra sui 2 euro perché altrimenti non sono nemmeno comunque così economici gli struccanti questi qui però ecco su di me brucia da morire e non strucca nemmeno chissà che cosa fatemi sapere voi se lo avete provato questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao